Tradimento a uomini e donne? Ecco la verità sulla storica coppia che ha partecipato al programma di Maria De Filippi Uomini e donne è una trasmissione televisiva che ha come fine ultimo quello di formare delle coppie Cavalieri e dame, così come tronisti, e, e corteggiatori e corteggiatrici decidono di far parte del programma di Maria De Filippi per trovare l'anima gemella E, come in tutte le cose, c'è chi ci riesce e chi invece no Fra le coppie che hanno lasciato il programma innamoratissime e più unite che mai troviamo Sossio Arruta e Ursula Benardo Lui, ex calciatore, lei parrucchiera, entrambi con dei figli e delle relazioni andate male in passato si sono incontrati a uomini e donne over Lei ha lottato duramente, cercando di modificare alcuni lati del carattere di Sossio, nettamente più libertino, e alla fine ce la fece Purtroppo però, dopo sei anni, la storia è finita e si parla di tradimenti Il presunto tradimento a uomini e donne, finalmente arriva alla verità La storia d'amore tra Ursula e Sossio è stata tanto complicata all'inizio quanto apparentemente semplice dopo Ciò che vedevano noi da casa era ciò che loro volevano raccontarci ossia una realtà patinata, felice e coronata persino dall'arrivo di una nuova vita Ursula è rimasta incinta della piccola Bianca e la coppia era persino tornata proprio da Maria De Filippi a raccontare del lieto evento Sei anni d'amore terminati però ormai da qualche tempo con una dichiarazione sui social da parte di entrambi Peccato però che, a far sorgere qualche dubbio sul come e sul perché sia finita la loro storia d'amore, è stato proprio Sossio L'ex calciatore aveva infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di lui insieme alla figlia con una caption un po' dubbia Io e te non ci tradiremo mai Una frase che sembra quasi voler lasciare intendere che Ursula lo abbia tradito A smentire tutto però è stato proprio Sossio parlando a novella 2000 della sua ex come una donna seria, precisa e che in sei anni d'amore nessuno ha mai tradito l'altro Del resto questo per Arruta è stato proprio uno scivolone. Da un po' di tempo infatti pare che lui stia cercando di riconquistarla e ha persino scritto una lunga lettera mezzo stampa dedicata a lei È scattato così un botta e risposta su di più dove però se lui chiede un'altra chance, Ursula è durissima e non lascia spazio a speranze tacciando l'ex di averla fatta soffrire Insomma, questa smentita del tradimento è sicuramente doverosa, ma non farà tornare la Bennarda su suoi passi Insomma, questa smentita è stata un'altra chance, ma non farà tornare la Bennarda su suoi passi